Anche se ormai non ci so più giocare tanto bene, oggi vediamo un pochettino cose che hanno combinato con il nostro bellissimo maestro delle lame, che qua l'ha chiamato così, io lo chiamerò un samurai di fuoco, perché quello è il motivo essenzialmente. No, signor Goharu! No! Sto facendo l'intro! Ok? Sto facendo l'intro! Si vergogni lei! Si vergogni! Si vergogni! Sto facendo l'intro! Si vergogni! Ahà! Sei morto! Vola! Oh ma usci un diri! Eh, stavo dicendo, vedremo un pochettino cosa che posso fare con questo, cosa sta cercando di fare? Bro! Cosa? Allora, vediamo un pochettino, salve signore, vuole fare uno più uno? Oi! Perché tutti mi ignorano? Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ok, vai! Va bene! Va bene! Scuso in pieno! Perfetto! Ok, buono così! No! Mi ero parato ma va bene! Va bene! Ah, scusi! D'accordo, sono a conoscere cose strane! Ok, è riuscito a prenderli! Aia! Allora, il 2-V-1 no! Eh, vabbè! Poi qualcun altro? Lo avevo colpito ma d'accordo! Lo avevo colpito! Si è visto perfettamente! Però va bene! D'accordo! Eh, a quanto pare i miei colpi non fanno storidimento! Quanto corre sto tipo? Oh bro, sai fare qualcos'altro oltre a correre? Bro, ma sei serio? Sei finito sull'albero! Mi sei... Ma quanto fai schifo? Va bene, sei al sicuro? Va bene! Va bene! Eh! Scendi dall'albero! Non sei tanto sicuro, vero? Non siete sicuro? Ti taglio l'atomo e esplosione nucleare! Aia, aia! Aia, aia, aia! Oh no! Alba! Preso! Dai, ma siamo seri! Siamo seri! Stanno teamando addosso! Però prendi l'altro! Bravissimo! Oh mio Dio! Eh, vabbè, dai! Eh, vabbè, dai, ok! Un altro morto! Avanti col prossimo! Sto dicendo, perché balla al manichino? Vabbè, cose strane succedono! Vabbè, cose strane succedono! No, no, no! Fai le moat! Fai le moat! Le moat! Fermo! 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 Oh, ce l'abbiamo fatta! Vai! Alla conquista del mondo! Molto, molto simpatico! Tutto ciò che ho avuto! Wiii! Ok, grazie mille per il passaggio! Allora, stavo dicendo! Per menare! Comunque, la Suprema l'avete vista! Ma teoricamente ho visto che... Ho visto che ci sono delle altre mosse! No, non era questa! Era con il 3! Ouch! Ma... Ma... Scusate! La mia mossa? Che fine avevo fatto? Scusate! Vabbè, sì! Le mie mosse vengono tutte cancellate! Vabbè, sì! I miei autoattacchi! Non fanno gli stun! Va bene, sì, sì! Ma che cavolo stai dicendo? Dai, ma siamo seri! Ma siamo... Ma... Ok! E stavolta lo riprendiamo! Ok, non è quello che volevo fare, proprio! D'accordo? Sì! Aia! Ouch! Comunque, ciò che hanno cambiato... Eh... Sì, la Suprema... Eh... Cos'è quella roba? Non lo so neanche io! È anche sta roba che puoi fare un taglio in aria, praticamente! D'accordo! Ah! Vabbè, ovviamente le cose devono succedere sempre e in continuazione a me, ma... D'accordo! Comunque se sto taglio in aria che non ho ben capito... In realtà si può usare anche per schivare... Vediamo un po'... Vabbè, questo... Ma si sa che è finito male per il bro... È finito decisamente male! Ouch! Ma io stavo guardando combattimento! Ma chi ti vuole? Ok? Ok, beccati questo, va! Eh, io non ci vado da te! Ok, questo esplode! Ok, no? Preso in pieno! Preso! Vado così? È esplosione nucleare! Sai che è morto? Oh mio Dio! Ahia! Ma... Stavo cercando di fare il 3 piuttosto, però ok! Ok! Preso! Oh no! E ora tocca a te! Oh, in quanti... Oh, basta! Ma sono tutti uguali questi cosi! Ahia! Basta! Ma perché sono 9000 io? Ok! Bravo, prendi l'altro! Vabbè, giustamente sì! Ok! Ho preso anche questo e è morto anche questo! E io non ce la faccio fare 1v1000 però! Anche questo è morto! Dai, fatti avanti! Sto uccidendo tutti! L'ho entrato in rampage! Oh no! Ok, lo fassero non proprio tutti! Ok! Vado? Ok, io però ragazzi, purtroppo forse... No! Avrei potuto predicarlo! Ok! Ok! Devo andare! Ok, giustizia! Per essa! Combattere! Ahia! Ok, no! Effettivamente così tanto non riesco a fare! Aia, 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 aia! Ok! Ok, preso! Ah, non riesco! Non riesco però a farne 300.000! Ok, d'accordo! No, ho fatto anche troppo, cavoli! Preso! Vola! Ah! Ah! Me la son gestita male, ma anche lui! Ok! Ah! Preso in pieno! No! Mannaggia! Ok, para! Eh, va bene! Non riesco a parare tutto però! Ah, ok! Va bene! Col cavoli! Però giustamente lui mi può ammazzare con quella roba! Eh, gliel'ha fatta! Gliel'ha fatta! Gliel'ha fatta! Eh, niente! Fino all'ultimo resistito! No, sono ancora vivo! Ah! Dai, ma siamo seri! Eh, niente! Non ce l'ho più fatta! Eh, alla fine! Basta! Ho dato il mio massimo! Ho fatto 1v5! Ma che cavolo era? Non ho la più fallida idea! Oh mio Dio! Non so che cosa ho fatto! A posto! Vado? A posto! Ho fatto fuori un altro! Non voglio interrompere lui! No, lui era troppo canio di essere interrotto! Oh no, 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 no! Mi scusi! Ok, no! Mi scusi, signore! Ok! Ok! Ma che cavolo! Ok! Ok, ho riuscito a prendermi lui alla fine! Niente! Ah beh, sì! Arriva l'altro! Sì! Ma molto, molto giusto! Sì, sì! Ok! Quale è volato via! Ma perché mi devono interrompere? Oh! Mannaggia! Oh! Perché mi stanno interrompendo tutti? Ma quante interruzioni c'ho! Vola! Ah! Va bene! Ti piace interrompermi? Sì! Ok! Lo riprendo! Ok! Ok! Va bene! Ok! È zult! Avevo ultato da prima! Cosa mi team? Addosso sto qua! Bah! Boh! È zult! Sì! È in ultima! Perché mi stanno attimando in tre forse! Ouch! Ma siamo seri! Preso! Bonk! Oh! 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 E basta! Non ne posso gestire diecimila! Cioè, forse sì, però! Non l'ho mai provato! Ok! Eh, non posso fare più di questo! Sto spammando un botto sulla tastiera! Ok! Non posso fare più di così! Dannazione! No! Basta! Ma siamo seri! Vabbè sì! Oh! Ma quanti! Perché tutti i Garu sono tutti dei tossici? Tutti! Guardalo! 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 Oh! Non ne posso più di essere uno di due! O uno di miliardi! Basta! Ma siamo seri! Vabbè! Non posso fare niente! D'accordo! Oh! Vi volete levare di mezzo? Siamo seri tutti quanti qui? Vabbè! Quello è volato via! Basta! Vola via! Accidenti! Vabbè si è trasformato pure! E vabbè si è trasformato pure! Ero pronto a fare il counter! E' arrivato l'altro! D'accordo! Interrompermi! Ah! Tu sei quello che mi ha temmato addosso finora! E lo sta continuando a fare! Ma sei incredibile! Insegnami! Ti prego! E vabbè! E io non posso però! Dai! Ma siamo seri! Vabbè! Bravo! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Vabbè! Si stanno trasformando tutti! E' posto per me! Qualcosa di incredibile! Ok! Si bravo! Mi hai preso! D'accordo zio! Però! Dai! Siamo seri! Vabbè! Vabbè! Giustamente ho dovuto leftard da quel server! Perché una volta che ti fanno permanentemente la suprema in 2 di 1! E' un attimo un problema! Capisci? Vabbè! Sì! Vabbè! Poi un altro! Vabbè! Sì! Dai! Giustamente! Interrompiamo! Interrompiamo! Non me lo ho detto che è esploso! Che devo dire? E basta! Tutti quanti! Ok! Preso quest'altro! Dai! Ma siamo seri! E vabbè! Ah! Giustamente! Vabbè! Sì! Vabbè! Sì! Sì! Mi sembrava giusto! Mi sembrava giusto! Vabbè! Sì! Ce l'hai fatta! Complimenti! Ma dai! Ma siamo seri! Ma è incredibile il bro! No! Ma insegnami! Ti supplico! Ti supplico! Non sarò mai bravo quanto te! Mai! Ah! Ti prego! Che c'è? Da solo non ce la fai, vero? È un po' troppo complicato effettivamente! Ah! Mannaggia! Dai! Ritenta! Non ce la fai da solo! Ma accidenti! Proprio! Hai bisogno ancora di aiuto! Dai vieni qua! Hai bisogno di un altro po' di aiuto! Dai! Ti prego! Dai vieni qua! Dai! Ti prego! Vieni qui! Non ce la fai! Dai che non ce la fai, Poretto! Eccolo lì il suo amico Gigio! Eccolo qui! Mi ero scordato! Mi ero scordato del suo migliore amico! Mi ero scordato! A posto la kill me la sono ripetendo! Eh? Basta timmarmi ancora! Arma finale! E niente! Ok! Eh vabbè un altro! Vabbè sì! Preso! Ok! L'ho eliminato! Ok! Va bene! Ah! Il Gigio qua! C'ha la suprema all! D'accordo signor Gigio! Ouch! D'accordo! Ora scappate tutti! Dai signor Gigio! Ah! È scappato così adesso! Ok! Mi sembra giusto! Ok! Quello è morto! Pam! Alba! Anche se non so cosa faccia! Aia! Ah! Mi ha preso quest'altro con la suprema! Ok! Sì! Vabbè pure questo! Vabbè poi! Eh vabbè dai! Non riesco a fare 300.000 cose però! La 300.000 supreme! Vabbè! Comunque sono riuscito a farvi vedere un pochettino com'è questo samurai! La suprema nuova! Le abilità nuova! Che è in salto essenzialmente! Quindi prima dovete saltare! Vabbè la Kimmel ha rubata così! Fantastico! D'accordo! Però me l'ho registrita molto bene! Ah! Ok! Ho ancora! Ma dato del camper! Come faccio a camperare in sto gioco? C'è un'abilità che mi costruisce una tenda? Non ho capito! Non ho capito!